Con la giunta i consiglieri decideremo se e come agire sotto il profilo civile e penale perché queste proposte pubbliche stanno danneggiando l'immagine internazionale della città. Non possiamo restare inerti di fronte a tanta manifesta aggressività. A dirlo il sindaco Brugnaro che non ha alcuna intenzione di passare sopra quanto proposto provocatoriamente dal consigliere comunale di opposizione Martini di accogliere i turisti a Venezia con pistole ad acqua. Servirebbe a contrastare il fenomeno del turismo di massa che secondo molti non è gestito adeguatamente dal comune. Ma questa proposta non è stata apprezzata nemmeno da molti consiglieri di opposizione che hanno preso le distanze da Martini, partito democratico in primis. Venezia deve essere una città accessibile e accogliente. Noi stiamo lavorando perché si vada in questa direzione. È ovvio che la gestione dei flussi turistici fatta dall'attuale amministrazione è totalmente assente. Anzi, è la stessa amministrazione che ha introdotto il ticket d'accesso e quindi cosa ha fatto della nostra città? La prima città al mondo a pagamento. Un pagamento che non è assolutamente legato a nessun servizio. Deve essere ben chiaro quindi che i visitatori sono ben accetti nella nostra città. Ribadisco, Venezia è una città, deve essere una città sempre accogliente e libera. Libera di entrarci senza pagare nessuna tassa. Quindi ecco per questo che siamo completamente in disaccordo con questa proposta del consigliere Martini e noi stiamo lavorando in consiglio invece con delle proposte che vadano appunto a lavorare sul tema della gestione dei flussi turistici. Opinione condivisa anche da molti altri colleghi di opposizione. Non è prendendosela con i turisti dicono che si risolverà il problema. Questa la regaliamo ai nostri figli, ai nostri nipoti perché possano giocare con i loro amici in queste giornate oggettivamente torride ma questo appunto è un gioco e tale deve rimanere per i più piccoli. Non ha nulla a che fare con proposte politiche e con idee per amministrare una città così complessa e oggi così mal amministrata che richiede di certo un cambio di passo ma appunto basandosi sulle proposte che stiamo portando avanti in consiglio comunale non su altre cose che sono appunto buone magari per un titolo di giornale ma nulla più.